A fare da madrina a questa nuova serie abbiamo una cantante jazz, figlia e nipote d'arte, figlia di Piero e nipote di Gegè Munari. Ci farà ascoltare nel suo ruolo di madrina tutte le canzoni più belle legate a grandi successi musicali. È Eugenia Munari! E' un'altra cosa che mi piace, e quando mi arrivo, faccio il mio avvento a fare di farlo. E' un'altra cosa che mi piace, 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 For two From which I'm never wrong Who could put you And so all else above I'm waiting for The man The man I love Una bellissima canzone The man I love Per una bellissima voce